cosa sta succedendo si può sapere ma dove dentro? è quel fumo che vedo lì? signora dovete spostarvi da strada fate lavorare si si non mi riprendi se devi parlare ti devo riprendere che ci stanno ragazzi che stanno aspettando gli arresti domiciliari che li tassi ci mandate da casa ci sono un altro pancela fuori 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 sono esseri umani perché stanno tutti così ci avete paura di questo coronavirus che non vede a fare da un cazzo di quelli che stanno là dentro brutti i fani fani come scappate però avete paura che svegliano la testa vedete lui che aspettano il processo la testa del giudizio vi vedete qua come scorgi in fondo sulla parte posteriore destra si c'è un'uscita blindata però ecco lì là stanno là sopra ecco lì là se volete però dobbiamo andare dall'altra parte dobbiamo andare dall'altra parte è uno di voi da dentro dobbiamo andare in casa no no Grazie a tutti.